una produzione industriale per la casa di tutti e lo slogan con il quale cartel presenta la sede universale di gioia colombo in questa pagina pubblicitaria la produzione in serie a differenza delle tradizionali lavorazioni artigianali consente di abbassare i costi dell'oggetto e rende l'oggetto stesso accessibile a tutti come recita lo slogan e infatti giulio castelli nel 1949 fonda la cartel proprio per migliorare la qualità degli oggetti d'uso quotidiano utilizzando le materie plastiche la sede universale disegnata da gioia colombo nel 1965 emessa in produzione da cartel solo due anni dopo nel 1967 stante il carattere decisamente innovativo del progetto è infatti la prima sedia al mondo stampata interamente iniezione con un unico materiale plastico io do un'importanza estrema allo studio di un oggetto per la produzione in serie alla sua progettazione tecnica e alla scelta dei materiali cercando di semplificare quello che dovrà essere il suo processo industriale di fabbricazione questi sono gli elementi che per primi determinano la forma di un oggetto tanto che lo stilismo sparisce come elemento fondamentale di creatività con queste parole gioia colombo esprime in maniera sintetica ma efficace il suo approccio a quello che oggi chiamiamo design di prodotto mettendo al centro del progetto la produzione in serie e la ricerca sui nuovi materiali ma perché si chiama sedia universale l'idea era quella di realizzare un prodotto definitivo cioè un oggetto che risolvesse una volta per tutte una determinata funzione adattabile a qualsiasi ambiente tecnicamente avanzato monomaterico e monocromatico ideale per una società di consumatori omogenei qui vediamo la sedia universale esposta alla mostra ceplastica e plastica del 1970 la sedia universale ha gambe sfilabili che potevano essere sostituite con altre di diversa altezza e la rendevano quindi adatta a una moltiplicità di funzioni sedia standard in una sala da pranzo sedia per bambini con le gambe più corte sedia alta o da bar con le gambe più alte esiste solo un prototipo della versione poltrona di cui qui vediamo anche alcuni disegni tecnici la sedia universale pensata inizialmente in alluminio pressofuso è stata realizzata in una prima fase in abs poi in polipropilene e infine in resina poliamidica a dimostrazione della continua ricerca tecnologica portata avanti da cartel e da gecolombo sui materiali plastici la sedia è anche la prima a essere venduta con una garanzia di 5 anni perché non invecchia non si rompe può essere lancita dalla finestra lasciata all'aperto immersa nell'acqua portata al polo nord o nel deserto e rimane nuova come recita il testo di questa pagina pubblicitaria la sedia presenta numerosi accorgimenti progettuali il cilindro della gamba è tagliato a metà per rendere possibile l'accostamento orizzontale delle sedie e per agganciarvi una tavoletta per scrivere gli incavi posti ai lati del sedile risolvono il problema dell'impilabilità in quanto è possibile inserire in essi le gambe posteriori di altre due sedie il foro centrale serve a garantire una comoda presa per spostare la sedia e permettere il deflusso delle acque in caso di uso all'esterno qui la vediamo in diversi colori bianca rossa nera e verde l'uso del colore di colore forti lucidi e sgargianti è una delle caratteristiche peculiari del design italiano degli anni 60 che rompe con la tradizione guarda l'arte contemporanea in particolare la pop art e più in generale alle distanze di rinnovamento della società portate avanti dalle giovani generazioni in quest'altra pagina pubblicitaria vediamo la sedia universale insieme ad altri oggetti materiale plastico prodotti da carte la composizione evidenzia l'impilabilità degli oggetti la loro leggerezza il colore e la semplicità delle forme sulla destra dell'immagine si vede la celebre seggiolina disegnata da zanuso e sapper nel 1964 a misura di balbino e in linea con le teorie pedagogiche di maria montessori joy colombo ha realizzato un'ampia gamma di prodotti industriali oggetti pensati per un'unica funzione come appunto la sedia universale sistemi di oggetti coordinati in serie flessibili e componibili e gli avveneristici monoblocchi vere e proprie macchine per abitare che soddisfano tutte le funzioni dell'abitare tanto che l'architettura diventa un contenitore senza suddivisioni interne in questa sequenza di immagini vediamo due tra i suoi oggetti più iconici acrilica medaglia d'oro alla tredicesima triennale di milano del 64 una lampada da tavoli metal crilato disegnata con il fratello gianni ancora oggi in produzione oppure la poltrona elda con scocca girevole a 360 gradi in fiberglass e imbottitura in pelle proposte in diversi film e telefilm di fantascienza dagli iconici spazio 1999 star trek fino al più recente angers game e nel film la spia che mi amava della saga di james bond per quanto riguarda i sistemi di oggetti qui vediamo il combi center mobile a torre su ruote costituito da un sistema di elementi cilindrici attrezzati e rotanti l'uno sull'altro il living center un sistema su ruote costituito da seduta sdraio abbinate a un mobile contenitore con scomparti e altoparlanti rotondi il sistema programmabile per abitare t14 che è costituito da contenitori laminato plastico con profili artiurto in plastica chiusure delle ante e unione dei blocchi a magnete tra i monoblocchi celebri sono l'ambiente visione a uno per buyer il cabriolet bet e rotoliving con le seduti multi share che qui vediamo nel suo appartamento in via argelati a milano e naturalmente il total furnishing unit presentato al moma di new york per la mostra italy the new domestic landscape la peculiarità del design di joy colombo consiste proprio nella sua capacità di incidere sui comportamenti sociali come le persone abitano gli spazi come le persone usano gli oggetti come le persone si relazionano tra loro tramite gli oggetti che le circondano tutto questo a partire dalle istanze di forte rinnovamento sociale culturale degli anni 60 e 70 ma con la capacità anche di prefigurare il futuro le ragioni che individuano le nuove esigenze dell'habitat sono la trasformazione dell'impostazione sociale in atto l'avvento e il perfezionamento delle comunicazioni audiovisive il perfezionamento tecnologico il superamento dell'attuale fase consumistica